Il Comune dell'Aquila ha approvato di recente la concessione di contributi 2016 alle associazioni di istituzioni culturali. In base al regolamento sono stati concessi benefici economici ad associazioni senza fini di lucro per la promozione del territorio in termini civici, culturali e di sviluppo. Le somme estanziate vengono divise per categorie, quote associative, contributi ordinari pluriennali ed annuali e contributi straordinari. Il Teatro Stabile d'Abruzzo ha ricevuto un importo pari a 103.000 euro circa, la Fondazione Università una somma pari a 10.000 euro circa, l'associazione CIDAC una somma pari a 3.100 euro. Al contributo destinato al Teatro Stabile d'Abruzzo va inoltre aggiunto l'importo di 30.000 euro in seguito all'assorbimento del Teatro di Innovazione L'Ovo con le sue attovità. I contributi ordinari pluriennali riguardano le istituzioni che godono del riconoscimento ministeriale, mentre i contributi ordinari pluriennali si riferiscono a enti, istituzioni e associazioni con sede nel Comune dell'Aquila che svolgano con regolarità un'attività annuale culturalmente rilevante per il territorio da almeno 5 anni. Nella prima sezione troviamo l'Istituto Cinematografico La Lanterna Magica con 40.000 euro circa, l'Istituzione Sinfonica Abruzzese con 53.000 euro, l'Associazione Teatro Zeta con 3.000 euro, l'ente musicale Società Aquilana dei Concerti Barattelli con 27.000 euro circa, i Solisti Aquilani con 16.000 euro circa, l'Associazione Culturale Motion Gruppo Fenix con 3.000 euro, l'Associazione L'Idea di Clev con 3.000 euro, la Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia con 25.000 euro. Nel capitolato dei contributi ordinari annuali troviamo invece il Consorzio Area di Ricerca in Astrogeofisica con 9.180 euro, l'Associazione Gli Archi del Cherubino con 9.000 euro circa, l'Associazione Quarto di Santa Giusta con 7.000 euro circa, l'Associazione Corale 99 con 7.000 euro circa, l'Associazione Dentan Salmo con 7.000 euro circa. Così le ripartizioni degli impegni di spesa, che gravano sui rispettivi capitoli di bilancio, le quote associative per un costo complessivo pari a 116.000 euro circa, i contributi ordinari pluriannali per un costo complessivo pari a 170.000 euro circa, e i contributi ordinari annuali per il costo complessivo pari a 40.000 euro.